Aproderà in aula consigliare martedì 19 gennaio la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Sant'Agata Militello Carmelo Sottile. Lo ha stabilito ieri la conferenza dei capi gruppo riunita al Comune alla presenza del presidente del civico consesso Antonio Scurria. La seduta per la discussione e il voto sulla mozione, presentata, lo ricordiamo, il 28 dicembre scorso da 10 consiglieri di opposizione, è stata fissata per le 17.30. In attesa del giorno della verità, nel centro sant'Agatese il dibattito politico, subito dopo l'approvazione, ritardata e piena di polemiche del bilancio di previsione, è dunque già tutto rivolto all'esito della mozione e sulle reali possibilità che l'opposizione riesca a raggiungere quota 14 voti, per porre fine anzitempo all'esperienza amministrativa del sindaco Sottile. Oltre ai dieci firmatari, Barbuzza, Gumina, Barone, D'Angelo, Befumo, Sanna, Fazio, Ortoleva, Andriolo e Pedalà, appare scontato il voto favorevole del presidente Scurria, esponente della stessa opposizione, maggioranza in consiglio. Difficilissimo capire se tra i nove consiglieri di minoranza ci siano dunque tre franchi tiratori al voto palese per appello nominale. Scontato l'apporto per l'amministrazione dello zoccolo duro del gruppo PD con i consiglieri Marchese, Magnaci, Caruso e Fachile, oltre che Sberna. Allineati dovrebbero essere anche Brancatelli e Carabotta, eletti in quoda Udc alle elezioni del 2013. Da delineare la posizione di Armeli, consigliere di riferimento del vice sindaco Testa e soprattutto dell'indipendente Enrico Natale. Per il centro santagatese si preannunciano, da qui al 19 gennaio, giorni di aspre contrapposizioni a tutto campo.